Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, sono Alessandro Leveratto, ricercatore presso l'Istituto SPIN del Consiglio Nazionale delle Ricerche. SPIN è l'acronimo di superconduttori, ossidi e altri materiali innovativi ed è un istituto che vede ben cinque unità in tutta l'Italia, a Genova, Napoli, Salerno, L'Aquila e Roma. Vi presento oggi il dottor Carlo Ferdeghini, direttore dell'Istituto e ricercatore nell'ambito della fisica della materia, autore di oltre 250 articoli scientifici che qui a Genova dirige il laboratorio di superconduttività, di cui faccio parte anch'io. Oggi vi parlerà appunto di questo straordinario fenomeno, la superconduttività. Grazie Alessandro, buongiorno a tutti e oggi davvero io vi volevo parlare di questo fenomeno veramente singolare in natura che è un fenomeno quantistico, uno dei più macroscopico, uno dei più spettacolari e che pur arrivando dal passato, perché è stato scoperto all'inizio del Novecento, continua a dare nuove sorprese, inclusi tutta una serie di nuovi materiali superconduttori che sono stati scoperti nel nuovo millennio ed hanno aperto prospettive davvero entusiasmanti che anche per il mondo della tecnologia. Io proverei a fare una rapida carrellata di questo effetto. Vi faccio qua un rapidissimo indice delle cose di cui vi parlerò. Naturalmente per parlare di questi materiali che violano un po' le regole normali della conduzione elettrica dei metalli, volevo iniziare a spiegarvi in maniera molto sommaria come essa avvenga e poi vi parlerò del fenomeno della superconduttività. Dovrò parlarvi brevemente delle proprietà magnetiche dei superconduttori per arrivare poi alla storia della superconduttività e ai materiali più interessanti che si sono scoperti in questo nuovo millennio. Io spero che i professori che sono oggi con voi non siano i vostri professori di materie scientifiche perché faccio delle tali approssimazioni nelle cose che dirò che chiedo come prima cosa il loro perdono. Innanzitutto per questo schema davvero brutale di com'è fatta la conduzione elettrica dei metalli. Voi dovete pensare che i metalli sono degli oggetti che hanno un reticolo di ioni positivi, quelli che ho schematizzato nella foto in rosso, che si sono esposti in maniera regolare nel reticolo cristallino e questo mare di elettroni, questa nuvola degli elettroni di conduzione che si muovono in maniera molto veloce e in maniera casuale in tutte le direzioni dello spazio. In realtà dovete pensare a questo oggetto come un oggetto che sta insieme e come vedete gli elettroni si muovono liberamente in questo reticolo cristallino che sta fisso. È una schematizzazione molto forte. Questo vuol dire che appunto nella realtà questo reticolo può essere anche molto compatto, per esempio nello schema che vedete lì a destra, sono le due specie atomiche diverse, sono schematizzate in viola e in verde e gli elettroni si muovono liberamente lì in mezzo. E non c'è però una corrente. Voi dovete pensare che questi elettroni si muovono in questo modo casuale, a velocità spaventosamente alte, parliamo di 1500 km al secondo nel rame. Quindi però vedete si muovono in tutte le direzioni e quindi non c'è un trasporto di carica netta da una parte all'altra del pezzo di metallo. Però se io immagino di avere invece adesso un pezzo di materiale in cui da una parte che ho lì schematizzato in giallo con quelle cariche positive, faccio una zona del metallo in cui c'è una mancanza di elettroni e dall'altra parte un eccesso di elettroni e collego queste due parti del metallo insieme, quello che succede è che una carica netta si sposterà dalla parte del metallo in cui c'è un eccesso di elettroni verso quella in cui c'è una mancanza di elettroni. È quello che si chiama la corrente elettrica, questa volta per trasporto di carica e fino a che ci sarà quella che si chiama la differenza di potenziale e questo trasporto di carica. Quindi voi sapete benissimo cos'è una differenza di potenziale anche se non l'avete ancora studiata perché tutti voi sapete che quando io attacco la corrente, la spina nella corrente elettrica, il mio utilizzatore, la mia lampadina si accende proprio perché ai capi della spina c'è la 220 e 220 è proprio l'unità di misura della differenza di potenziale che c'è ai capi di quella spina. La stessa cosa avviene quando io collego una batteria a una batteria un utilizzo, un qualunque utilizzo e in generale c'è un pulsante on off proprio perché appena collego il polo negativo col polo positivo c'è una corrente di che scorre. E questo è un fenomeno che noi conosciamo, voi conoscete molto bene, è un fenomeno anche naturale, chiunque ha in una giornata di tuoni fulmini ha una visione spettacolare di come può essere un fenomeno elettrico. Quindi delle enormi differenze di potenziale si vengono a creare nell'atmosfera così grandi che rompono la rigidità di elettrica dell'aria fino a che enormi scariche, i fulmini, compaiono nel cielo. Quella è una, diciamo così, spettacolare corrente di trasporto netta verso terra. Bene. E qui, perdonatevi, questa è l'unica formula che scriverò nel corso di questo seminario, è la legge di Ohm, ovvero la corrente elettrica, la differenza di potenziale, ne ho parlato, è proporzionale alla corrente elettrica che scorrerà nel metallo, cioè più è alta la differenza di potenziale che io applico più è alta la corrente elettrica e la costante di proporzionalità è quella che si chiama resistenza elettrica, ovvero come il materiale si oppone al libero fluire delle cariche al suo interno. E da cosa è determinato questa resistenza elettrica? Vedete, voi dovete immaginare che la resistenza sia l'equivalente nella fluidodinamica di una strozzatura, per cui io devo mettere una grossa differenza di pressione per fare fluire un flusso d'acqua in un tubo. Ebbene, tutti voi sapete che quando poi una corrente elettrica scorre in un materiale appunto c'è la resistenza e la resistenza da cosa è provocata? È provocata da urti, sono urti nei quali gli elettroni perdo energia, ma urti con che cosa? Beh, sicuramente contro le impurezze nel reticolo, poi vedremo cosa sono, è anche degli urti con gli ioni del reticolo, ma questo non è proprio vero perché gli ioni del reticolo in realtà, vedete qua sono schematizzati in blu, sono fermi in posti ben determinati nel reticolo cristallino, ma siccome c'è l'effetto della temperatura, in realtà questi atomi così fermi non sono perché siccome c'è l'agitazione termica, ognuno di loro oscilla all'intorno del suo punto di equilibrio. Queste oscillazioni, che sono oscillazioni con molti modi diversi, trasverse, longitudinali, ma lasciamo perdere i dettagli, sono addirittura quantizzati e si chiamano fononi e sono eccitazioni di questo reticolo. Ecco, sono gli elettroni, urtano con queste eccitazioni, interagiscono con queste eccitazioni del reticolo che sono promossi dalla temperatura e quindi questo è un pezzo di, diciamo così, di schettering, di urti che contribuiscono a alzare la resistenza. Benissimo, questi sono, allora, abbiamo visto gli urti con i fononi che aumentano la resistenza, gli altri veleni che gli elettroni vedono come ostacoli sono le impurezze. Voi dovete immaginare, per esempio, se voi vedete qua in grigio il reticolo di rame, facciamo, poi ogni tanto c'è un'impurezza, che so, di ferro, questa inviola su questo reticolo. Il ferro è più grosso e quindi distorce il reticolo e queste impurezze, che non rispettano la periodicità del reticolo, nel senso che lo deformano, tendono a essere centri di schettering, si dice, cioè centri in cui gli elettroni urtano e quindi impediscono il loro libero fluido. E allora potremmo fare la seguente considerazione, che ogni volta che in un metallo c'è una corrente elettrica circolante, c'è una dissipazione di energia attraverso gli urti con i fononi e con le impurezze. Tutti voi avete contezza di questo fenomeno fisico. Tutti voi sapete che quando accendete una stupetta elettrica, li mettete le mani davanti, sentite calore che radia dalla stupetta elettrica, perché la, diciamo così, la corrente urtando con questi due tipi di urti dissipa potenza e quindi lo dissipa in calore ed è il calore che sfruttiamo da un lato per le stufette, dall'altro lì c'è una lampadina in incandescenza, adesso abbiamo tutti i led, ma fino a poco fa quella è la principale fonte di illuminazione nelle nostre case. Tutti voi quando vi asciugate i capelli, io questo problema non ce l'ho più, usate appunto l'effetto joule, ovvero il fatto che dentro al fon c'è una resistenza elettrica che dissipa, che dissipa potenza e il ventilatore del fon butta l'aria calda sui vostri. Ebbene, passiamo invece a quelli che sono i superconduttori, che sono i supereroi dei materiali, perché hanno, come tutti i supereroi hanno queste caratteristiche straordinarie, i superconduttori hanno la straordinaria caratteristica di avere una resistenza zero, dove quando dico zero significa incommensurabilmente piccola, è davvero una condizione, diciamo così, quantistica della materia, che è uno stato collettivo della materia che porta a una resistenza nulla. Se voi pensate a cosa vi ho detto prima, questa in blu è la resistenza in funzione al diminuire della temperatura in un metallo normale. Allora, vedete, diminuisce. Perché diminuisce? Perché i fononi, abbassandosi la temperatura, che sono i fononi, che sono le vibrazioni molecolari dovute all'agitazione termica, diminuiscono la loro oscillazione e quindi la resistenza diminuisce. Può diminuire anche molto, ma non sotto un determinato valore, che si chiama resistività residua, perché le impurezze sono ineliminabili. Per poche che siano, un po' ce ne sono, e quindi la resistenza non potrà mai andare a zero in un metallo normale. E invece i superconduttori, a una certa temperatura magica, che si chiama temperatura critica, che è diversa per ogni materiale superconduttore, improvvisamente, al diminuire la temperatura, la resistività diventa nulla. È un fenomeno molto strano, così strano che questa, diciamo così, caratteristica della materia è stata scoperta all'inizio del secolo, nel 1911. Bisognerà aspettare gli anni fra i 50 e i 60 per avere finalmente la spiegazione teorica del perché si avvenga. Provo a dire, addirittura a farvi, a spiegarvi perché, qual è il meccanismo con cui questa superconduttività avviene. Allora, voi dovete pensare che al reticolo cristallino, che vedete qua in azzurro, basta un elettrone, questo, voi sapete carica negativa, il reticolo cristallino sono ioni positive, e quello che succede è che intorno all'elettrone ci sarà, vedete, un addensamento degli ioni, gli ioni si sentono l'attrazione verso questo elettrone, e quello che creano è una piccola carica positiva netta qua. Un secondo elettrone, che viene molto dopo temporalmente a quello che ha causato questo addensamento di carica positiva, vede questa carica positiva e viene attratto da questa carica positiva. Ebbene, quello che si dice è, e capite subito, qua c'è subito una traccia del perché questo può avvenire solo a bassa temperatura, perché abbiamo detto che ci devono essere, che ci sono i fononi, cioè queste vibrazioni del reticolo. A bassa temperatura, quando queste vibrazioni del reticolo sono più piccole, questo effetto, diciamo così, di distorsione del reticolo può avvenire più facilmente, e questi due elettroni si dice che si accoppiano, si chiamano coppie di Cooper, che sono lo stato, diciamo così, del caratteristico della superconditualità. Si chiamano coppie di Cooper perché è il signor Cooper che per primo ha avuto l'idea e nella teoria PCS, che è appunto Bardi, Schripp e Cooper, viene spiegato finalmente, anche dal punto di vista energetico, la magia della superconditualità. Dicevamo, v'ho detto, che appunto siccome è l'elettrone che deve deformare il reticolo e il reticolo ha già un sacco di vibrazioni che sono prodotte dalla temperatura, questo avviene, capite perché, avviene naturalmente verso le temperature più basse. Guardate, qua c'è un termometro. Immaginate, voi siete più probabilmente abituati a usare i gradi Celsius, per cui sappiamo benissimo che la nostra temperatura ambiente è intorno ai 20 gradi, l'acqua bolle a 100 gradi. In realtà quello che si usa poi nella scienza sono i gradi Kelvin, che hanno un'equivalenza che ho scritto qua, gradi Celsius in più 273 gradi. Esiste uno zero assoluto che si trova a meno 273 gradi e quindi tutte le volte che volete trasformare i gradi Celsius in Kelvin voi dovete sottrarre 273. Allora, il Kelvin zero assoluto è freddino perché il posto più freddo della Terra è in generale in Antartida, è d'inverno, è da circa meno 70 gradi. La superconduttività invece avviene ben più sotto, intorno ai meno 269 gradi, fra i meno 269, diciamo così, e i meno 173. Quindi insomma, molto al di sotto delle più fredde temperature che si trovano sulla Terra. E quindi diciamo, c'è subito questa caratterizzazione. La superconduttività purtroppo avviene a bassa temperatura. Naturalmente voi capite che avere il vantaggio di avere una dissipazione nulla, avete però lo svantaggio che dovete raffreddare questi oggetti a temperature davvero impegnative. L'altra cosa, in realtà abbiamo detto che i superconduttori sono i supereroi dei materiali, ma non solo perché sono dei superconduttori, sono anche dei superdiamagneti. Allora, voi sapete che naturalmente sono dei superdiamagneti al di sopra, al di sotto di un certo campo che si chiama campo critico. Io adesso qua non mi... direi, se mi permettete, vi vorrei spiegare questo aspetto più con un esempio rispetto più che con delle formule perché sono abbastanza complesse, però voi dovete immaginare che se ci mettiamo in un diagramma campo magnetico-temperatura, il superconduttore è superconduttore al di sotto di una certa temperatura che abbiamo detto che si chiama temperatura critica e al di sotto di un certo campo che si chiama campo critico. Quindi lo stato superconduttore l'ho segnato qua in giallo ed è in questa parte del piano campo magnetico-temperatura. Al di sopra di questo il superconduttore torna nello stato normale, come un metallo normale. Ebbene, in questa regione superconduttiva si hanno i due fenomeni, sia della corrente che scorre senza dissipare, sia del flusso magnetico completamente espulso. Ovvero, se io prendo un pezzo di superconduttore e applico un campo magnetico al di sopra della sua temperatura critica, vedete che questo punto che ho segnato sul grafico, quello che succede, mi scuso, quello che succede è che il campo viene completamente espulso, perché si accendono delle supercorrenti che espellono il campo. Ma se io faccio questa cosa con quest'altro percorso, venendo cioè da sopra la temperatura critica, in questo momento il campo è completamente penetrato nel mio superconduttore, abbassando la temperatura critica, la cosa che succede di nuovo è che queste correnti si accendono lo stesso, espellendo il campo, oppure non essendogli nessuna ragione elettromagnetica affinché questo succeda. Questo si chiama effetto Meissner, è stato scoperto nel 1930 e voi direte, ma non mi sembra così spettacolare. Beh, però non è spettacolare, ma è il principio sul quale può avvenire la levitazione magnetica. Voi vedete qua, in questa fotografia, un pezzetto di superconduttore che è raffreddato con un magnete permanente che come vedete sta sospeso su di lui. Questo sono io su un magnete permanente e questo è un criostrato nel quale ci sono i superconduttori. Io qua vedete ho una ringhiera perché bisogna tenersi, perché in realtà qua è libero di ruotare, perché in questa fessura di pochi millimetri c'è il vuoto, cioè lì ci passa un foglio di carta tranquillamente e quindi sono completamente levitato nonostante il mio peso non indifferente su un oggetto di questo tipo. E voi potrete dirmi che allora non è poi così interessante apparsi il gioco di stare lì sopra e poter ruotare liberamente. Però questo è il principio sul quale si formano, sono stati sviluppati i treni superconduttori. Questo è un treno che si chiama Maglev, è fatto, è stato sviluppato soprattutto in Giappone, ce n'è uno funzionante in Cina all'aeroporto di Shanghai ed è un'esperienza davvero molto molto carina. Io adesso volevo farvi vedere se funzionerà il filmato questo aspetto della levitazione magnetica. Guardate, questo in nero è il superconduttore, questo che è stato coperto da questa cartina è il magnete, un magnete permanente. Ora l'operatore lo posa su quell'oggetto e come vedete questo si posa a forza di gravità, ce lo schiaccia lì sopra. Però se adesso noi raffreddiamo quel pezzo di superconduttore, quel liquido che vedete cadere è azoto liquido, lì è meno 200 gradi, quindi piuttosto freschetto, metto lo stesso magnete lì sopra, quello che avviene è la levitazione magnetica. Questo è il diciamo per me che sono un vecchietto che fare questo esperimento un tempo bisognava andare in camere a vuoto a temperature estremamente basse, l'idea di poterlo vedere in modo così semplice, addirittura a toccare l'oggetto che sta levitando è veramente una cosa molto e come vedete è anche molto molto divertente. Va bene, questo è il principio e questo invece è quello che si può ottenere e è tutto che è tutto è tutto E avete visto che è piuttosto impressionante, questo è un treno che davvero esiste, è un treno sperimentale in un tratto, diciamo così, di pochi chilometri, ma che va alla bella velocità di 600 km all'ora. Allora, vorrebbe dire che partendo da Brignone arriveremo a termini in 50 minuti, esattamente quasi come le nostre ferrovie attuali. Naturalmente questo è un oggetto futuribile, però quello che già esiste è operativo, invece che a 600 km all'ora va a 400 km all'ora, comunque è veramente sempre molto impressionante. E queste proprietà magnetiche dei superconduttori, volevo solo chiarirvi che avvengono per campi magnetici molto elevati. I campi magnetici si misurano in Tesla, che è un'unità di misura piuttosto grossa, perché il campo magnetico terrestre è solo di un milionesimo di Tesla. Quando voi, quelli che di voi hanno avuto esperienza di risonanza magnetica per uso medicale, in generale vanno in questi oggetti solidoidali, che hanno campi magnetici che vanno fra uno e tre Tesla, quindi circa un milione, due milioni, tre milioni più alti del campo magnetico terrestre, e sono applicazioni normali della superconduttività. Ma i nuovi composti superconduttori scoperti negli ultimi tempi possono avere campi crisci degli ordini dei 120-150 Tesla, quindi veramente impressionanti. E vediamo un po', allora, alla storia della superconduttività. La storia della superconduttività, appunto, si lega indissolubilmente al nome di questo signore, Eike Kamerling Omnes, che nel 1911 studiava proprio la resistenza dei metalli, e voleva andare a dimostrare che la resistenza, andare a discriminare se la resistenza dei metalli potesse andare linearmente a zero o ci fosse quella resistività residua, che abbiamo scoperto esistere, dovuta agli urti con le impurezze. Ebbene, quando finalmente Kamerling Omnes riuscì a liquefare l'ultimo dei gas nobili che non si erano ancora riusciti a liquefare, ovvero l'elio liquido, studiando la resistenza, il diminuire della resistenza del mercurio, scoprì che a 4.2 Kelvin, meno 269 K, improvvisamente, questo è il grafico ordinale, la resistenza del mercurio crollava a zero, ma a zero in maniera veramente istantanea, molto sharp, molto netta, e a zero, a un numero veramente immisurabilmente basso di resistenza. Ebbene, lì per lì, e naturalmente questo fruttò a Kamerling Omnes il premio Nobel, e lui stesso si accorse subito delle potenzialità applicative di questo fenomeno. E all'inizio fu considerata come, diciamo così, una proprietà esotica dei materiali. In realtà così non è, perché questa è, poi la studierete più avanti, la tavola periodica degli elementi, cioè tutti gli elementi ordinati per il loro numero atomico, e vedete, quelli colorati sono quelli superconduttori, cioè la maggioranza. Non è affatto un fenomeno raro, ma è uno stato della materia abbastanza comune in certe condizioni. Quindi, prima fra tutto, la bassa temperatura. E questo è un po', ho schermato quello che avviene dal 2000 in poi, è la temperatura critica dei materiali, vedete, in funzione dell'anno, partendo dall'inizio del secolo scorso. E quello che vedete è che fino al 1980 il record della temperatura era 20 Kelvin, 23 Kelvin, in questi materiali che si chiamano 15. 23 Kelvin vuol dire comunque l'uso dell'elio liquido. L'elio liquido, perché voi potreste dire, va bene, l'elio liquido, perché non utilizzarlo? Usare l'elio liquido è un grosso problema, perché l'elio è un materiale estremamente raro, e nella Terra si trova poco, è un materiale strategico estremamente costoso, tende subito a sfuggire verso l'alto, e quindi, insomma, è un oggetto costoso e molto difficile da utilizzare. Ragione per la quale, nel 1986, quando furono scoperti da Bernhoz e Müller, i materiali ossidi superconduttori con temperatura critica dell'ordine di 30 Kelvin, e in pochi anni, fino a 150 Kelvin per altri sistemi ossidi molto complessi, il mondo dell'industria e della scienza fu elettrizzato da questa scoperta, che valse il Nobel a Bernhoz e Müller pochi anni dopo. Qua c'è un'anedota abbastanza interessante, perché Alex Müller, che è un personaggio simpaticissimo, tutti ebbero subito contezza della eccezionalità di questa scoperta, e fu una scoperta fatta da questi due scienziati che lavoravano nel loro piccolo laboratorio, e Bernhoz era il postdoc, cioè il giovane ricercatore che lavorava insieme a Müller. Io lo ricordo bene, mi ricordo perché quando fu chiamato per vincere il premio Nobel Alex Müller, gli venne dato in tempi abbastanza brevi, proprio perché sembrava molto malato, sembrava molto vicino alla fine della sua vita, e volevo dargli questo riconoscimento finché fosse stato in punto. Devo dire che ancora adesso, bello vispo, e partecipa ancora alle conferenze, è addirittura ancora attivo, quindi a volte si fanno degli errori di valutazione, in questo caso molto molto piacevoli. Ebbene, perché andare così su di temperatura è molto molto importante? Perché a questo livello qui, che sto segnando, intorno ai 77 Kelvin, c'è un altro criogeno che è l'azoto liquido, quel liquido che avevo fatto vedere prima del filmato che veniva versato sul superconditore. Per cui l'idea di poter utilizzare un liquido di così facile utilizzo come l'azoto liquido, aveva naturalmente elettrizzato tutti noi all'idea che questi materiali potessero consentire davvero un uso diffusissimo e indiscriminato della superconduttività. Poi se apriamo tempo vedremo che questi materiali purtroppo hanno dei piccoli problemi che tanto piccoli non sono. Allora, andiamo un attimo alle applicazioni dei superconduttori. Vi ho fatto già vedere un treno, ma molti di voi hanno sentito parlare di LHC, Large Hadron Collider. Questo, diciamo, enorme acceleratore di particelle che c'è a Ginevra è una delle più colossali imprese della scienza di tutti i tempi perché è stato costruito un tunnel che è lungo 36 km nel quale ci sono dipoli superconduttori da 12 Tesla, quasi tutti per metà almeno costruiti in Italia e in Liguria, come poi vedremo, nel quale ci sono fasci di elettroni e positroni che circolano in verso opposto a velocità vicine a quelle della luce grazie al fatto che ci sono appunto i magneti superconduttori che piegano la loro traiettoria e poi ci sono certe stanze come questa che sono anch'esse, diciamo così, enorme stanze sperimentali nel quale appunto i due fasci incidono l'uno contro l'altro e si sprigionano eventi nel quale molti di voi avranno sentito parlare pochi anni fa della straordinaria scoperta di questa particella mancante, il bosone di Higgs, che finalmente è stata vista, è stata, e questa è una, diciamo così, una vittoria della scienza veramente molto, molto, molto importante. E qua in questa piantina LHC sembra piccolo perché voi vedete che qua c'è un'altra circonferenza e questo è il nuovo progetto che si chiama Future Circular Collider, il collisore circolare del futuro che appunto è in discussione in questo momento e si pensa di fare un tunnel di 100 chilometri questa volta con magneti ancora più potenti per aumentare di un fattore almeno 10 di energia dei fasci di particelle che collidano l'una contro l'altra. Il mio laboratorio sta partecipando attivamente allo sviluppo dei materiali superconduttori necessari per questo tipo di applicazioni, ma ci sono anche applicazioni, diciamo così, più alla portata, se così si può dire. Per esempio la fondazione Cnao, mi fa piacere citarla, perché ha questo sincrotrone che di nuovo usa la tecnologia che è una circonferenza di circa 25 metri che utilizza di nuovo la tecnologia superconduttrice per accelerare delle particelle, questa volta pesante, degli adroni che servono per andare all'interno del corpo umano, andare a danneggiare selettivamente le cellule cancerogene nei nostri organi. Quindi questa è una nuova frontiera della medicina che ha necessità per accelerare questi oggetti della superconduttività. Ma poi ci sono anche altre applicazioni veramente importanti. per esempio mi fa piacere citare fra le mille che ci sono questa di questo progetto pilota sui cavi superconduttori che c'è nella città di Essen in Germania. Vedete, in rosso è segnato questo cavo che tutti voi viaggiamo in autostrada avete visto quelli elettrodotti fatti dai normi tralicci che portano cavi di alta tensione. Ebbene, c'è un limite molto forte soprattutto nei centri abitati per trasportare la corrente e l'idea è di utilizzare questi cavi superconduttori che possono portare, per esempio questo porta 23.000 ampere proprio per andare a collegare due centri di utilizzo molto importanti. e questi voi vedete sono oltre il superconduttore molto poco qua dentro ma naturalmente devo portare oltre che l'isolante anche il suo criostato perché qua fluisce un criogeno che deve tenere fredda la parte interna. e qua c'è uno schema molto piccolo e forse non è facilmente decrittabile però è venuta anche l'idea di utilizzare siccome uno dei possibili criogeni è l'idrogeno liquido voi sapete che l'idrogeno è un ottimo combustibile quindi potrebbe, tanto è vero che si stanno, è un combustibile pulito e quindi è contemporaneamente a una temperatura di ebollizione normale dell'ordine dei 20 Kelvin cioè meno 250 gradi, centigradi questo fa sì che potrebbe essere usato per raffreddare magneti superconduttori cavi superconduttori e contemporaneamente per funzionare al posto della benzina. quindi voi sapete che ci sono delle automobili stanno studiando l'utilizzo di automobili a idrogeno e quindi è una nuova tecnologia pulita che è certamente studiata in questo periodo. Ha una controindicazione forte che è il fatto che purtroppo l'idrogeno la volta che è nello stato gas in particolari, diciamo così, concentrazioni mutue con l'ossigeno tende a sviluppare miscele tonanti che è un nome altisonante, vuol dire che scoppiano quindi l'utilizzo dell'idrogeno è comunque un utilizzo difficile perché proprio per questione di sicurezza. Bene, andiamo avanti e vediamo altri abbiamo già visto i treni superconduttori questo è quello esistente, il Maglev che raggiunge i 350 km all'ora in due minuti e viaggia a una velocità di più di 400 km porari e questa è la foto che vi ho già fatto vedere prima un sistema di risonanza magnetica per immagine e qua vedete come esempio l'immagine di un piede umano e questo ha un vantaggio di essere molto meno invasivo rispetto ai raggi X che sono particelle ionizzanti comunque perché questo tipo di tomografia si basa sulla precessione dei momenti magnetici del carbonio all'interno delle cellule e quindi è assolutamente non invasivo. e questo è possibile avere campi magnetici elevati solo utilizzando la superconduttività. E qua veniamo a un'altra, diciamo così, applicazione spettacolare della superconduttività che è la fusione nucleare. La fusione nucleare, questo è uno dei grandi sogni dell'umanità e per la gente della mia generazione è l'energia nucleare pulita questa perché mentre la fissione produce scorie radiative questo sistema invece si vorrebbe fare quello che succede all'interno del Sole ovvero prendere due attomi di idrogeno il deuterio e il trizio sono due isotopi pesanti uno il deuterio e l'altro il trizio mandarli vicini a una temperatura vicina a quella del Sole in modo tale che loro si fondano e formino un atomo d'elio che ha appunto due protroni e due neutroni e rilascino un neutrone. Questa configurazione finale ha un'energia più bassa di quella iniziale e quindi nel fondere insieme rilasciano l'energia che può essere utilizzata come centrale quindi noi possiamo produrre energia fondendo due atomi di idrogeno e formando un atomo di idrogeno ma dobbiamo, abbiamo il piccolo dettaglio che dobbiamo andare a una temperatura vicina a quella del Sole allora come si fa? Qual è un materiale che può tenere questo plasma a milioni di gradi senza resistere? Non esiste un materiale di questo tipo allora l'idea è di fare delle bottiglie magnetiche enormi bottiglie magnetiche e questa è un toro voi vedete fatto a forma con questi magneti a forma di D enormi vedete queste sono le persone questo magneto è fatto alla Spezia da SG Superconductor quindi sono magneti enormi la tecnologia di ITER è una tecnologia italiana addirittura Ligure e vedete si tratterebbe in sostanza questi magneti a D tendono a creare questa corona circolare in cui il plasma è mantenuto e questo è il posto della Terra è il posto dell'universo dove ci sarà il più grande gradiente di temperatura perché qua ci saranno meno 269 gradi Celsius e qua ci sarà la temperatura del Sole quindi una scommessa tecnologica spaventosa questa è veramente un'impresa colossale dell'umanità e questo oggetto qua lo stanno costruendo già in fase di implementazione nel sud della Francia a Cadarache e tanti nostri colleghi e tanti nostri diciamo così anche persone dell'industria stanno dando un contributo molto forte a questo oggetto e veniamo finalmente ai superconduttori del nuovo millennio questo è il grafico che vi ho fatto vedere prima ve l'ho fatto vedere fin qua e questo è quello che è successo nel nuovo millennio prima è stato scoperto questo oggetto qua il diboruro di magnesio poi improvvisamente allora si è detto benissimo bisogna fare cose usare materiali sempre più leggeri affinché le frequenze coloniche siano più favorevoli benissimo prendiamo siccome non si riesce a fare l'idrogeno metallo prendiamo dei composti metallico prendiamo dei composti dell'idrogeno e in sostanza solfuri lantaniuri oppure questi oggetti che hanno tre composti e proviamo con loro e la cosa che è stata che è successa in un brevissimo tempo è che sono stati scoperti prima a temperatura di 200 Kelvin poi a temperatura di meno 70 gradi io vedete qua ho messo questo era un seminario che facevo poco tempo fa ho messo questa foto con i pinguini perché dicevo vedete è a temperatura ambiente purtroppo alla temperatura ambiente a cui sopravvivono solo i pinguini invece non è più vero perché nelle ultime settimane hanno scoperto questi materiali qua voi avrei potuto mettere la fotografia di Genova in primavera perché l'ultimo materiale superconduttore scoperto questo mistura di idrogeno zolfo e carbonio ha invece una temperatura critica di circa 15 Kelvin ovvero temperatura ambiente questa è una straordinaria scoperta e voi direte ah benissimo si può utilizzare beh per ora no vero o no perché perché questo stato della materia si ottiene solo a 2 o 3 milioni di atmosfere 2 o 3 milioni di atmosfere è un ambiente quanto mai scomodo però è vero che si è dimostrata la possibilità almeno teorica di in pratica non solo teorica di raggiungere la superconduttità adesso si tratta solamente di trovare altri materiali che abbiano le stesse caratteristiche di rigidità strutturale a pressioni ambienti e non così alti e io volevo finire con una del con rivendicare un pochettino con orgoglio se mi permettete la diciamo così il ruolo di Genova anche a livello internazionale sul in questo campo perché vedete questo è il laboratorio il mio laboratorio che dirigo io il laboratorio del Consiglio Nazionale della Ricerca che si chiama SPIN questo è il dipartimento di fisica dove c'è non solo i colleghi dell'università anche una sezione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare estremamente attiva in questa in questa tematica e insieme con tutti questi colleghi al di là delle diverse delle diverse sigle abbiamo fatto di Genova attraverso l'ASG che ha costruito i magneti di LHC e adesso sta costruendo i magneti di ITER usando aprendo una fabbrica anche alla Spezia attraverso Columbus Superconductor che è una spin-off del nostro istituto che produce questo materiale innovativo che si chiama di boruro di magnesio e ha sviluppato e noi stessi abbiamo contribuito a sviluppare questa linea di tomografi innovativi a base di di bruro di magnesio che hanno appunto questa struttura aperta dicevo possiamo giustamente rivendicare il fatto che Genova sia una del capitale internazionale della superconduttività e infatti ospitiamo sia noi sia i colleghi degli NFN i più importanti convegni e conferenze sul sul tema io a questo punto avrei finito sono sicuro di avervi estremato vi ringrazio se siete riusciti a mantenere l'attenzione fino adesso e se ci sono domande io sono a questo punto a disposizione allora mentre attendiamo magari qualche ulteriore domanda sul sulla chat di youtube chiediamo magari a Carlo quali sono i materiali superconduttori più utilizzati che può essere una curiosità un po' per tutti questo è il punto dolente perché i materiali superconduttori più utilizzati sono proprio quelli che hanno le temperature di utilizzo più basse anche perché sono quelli che sono stati scoperti come ho detto all'inizio del secolo e hanno avuto più tempo per essere sviluppati ma sono tecnologie difficili scusate qua vado vediamo se riesco a farvi vedere ecco perché sono tecnologie difficili perché allora questi sono i cavi come sono strutturati al di là si usano di obbio tristagno di obbio titanio ma al di là di quello che sono vedete questi sono migliaia di filamenti di pochi micron di diametro impacchettati all'interno di matrici metalliche tutto questo quindi sono alcune migliaia di filamenti tutti separati fra di loro e poi questi oggetti qua sono tablati fra di loro per fare questi strand questi sono strand per fare questi cables proprio che sono l'elemento del magnete voi capite che questi materiali qua sì è una tecnologia diciamo così piuttosto standard ma sono assolutamente complicati perché ci vuole un controllo su scala micrometrica in sezione per lunghezze che sono invece chilometriche quindi una tecnologia estremamente complessa e complicata anche dall'utilizzo dell'elio liquido che è un materiale raro sempre più difficile da ottenere in grande quantità e quindi questa è una delle limitazioni principali dell'utilizzo dei materiali stessi ci sono altre domande o continuo a chiacchierare da solo e a questo punto siccome dici che una grossa limitazione quindi è l'elio liquido e ci hai parlato però della scoperta di materiali superconduttori ad alta temperatura ovvero quelli che possono lavorare diciamo con l'azoto liquido molto più economico come mai non vengono utilizzati più intensivamente questi materiali questo è la sfida e la disdetta di questi materiali perché questo è il diciamo così il prototipo di questi materiali si chiama Ibco qualcuno di voi ne avrà sentito parlare sono oggetti estremamente complessi vedete che hanno questi piani questi piani cristallini ma questo sono cristalli molto molto grossi molto complessi con quattro o più elementi e soffrono di una grande anisotropia uno dice vabbè che problema c'è purtroppo c'è questo problema perché hanno una grossa anisotropia scusate è anche una piccolissima non vi spaventate lunghezza di coerenza la lunghezza è la lunghezza sulla quale nella quale la superconduttività si ricorda e gli elettroni si continuano a vedere il problema è che è così breve questa lunghezza di coerenza che tutti i bordi di grano ovvero se io immagino di fare film sottili epitassiali cioè perfetti come cristalli se io ho un disallineamento del cristallo anche un allineamento non perfetto lungo questa linea qua il superconduttore si scorda di essere tale e quindi è come se i superconduttori si dividessero in due quindi quello che bisogna fare è bisogna costruire un sistema epitassiale che vuol dire che mantenga il ricordo del cristallo diciamo così perfetto sulla scala su tutta la larghezza di questo nastro che sarà appunto un centimetro per chilometri cioè una sfida che sta assolutamente challenging assolutamente incredibile però adesso finalmente stiamo riuscendo a fare materiali di questo tipo e esistono i primi magneti con realizzati con materiali di questo tipo qual è il problema? in realtà non si usa poi l'azoto liquido come vi ho fatto vedere però si usano delle macchine frigorifere dei frigoriferi dei frigoriferoni come abbiamo quelli che abbiamo in cucina molto più potenti che però il problema di avere oggetti così ben orientati su lunghezze così lunghe è il costo i costi diventano esplosivi e quindi tutti noi stiamo cercando di riuscire a fare cose di questo tipo con costi inferiori allora se non ci sono altre domande ringrazierai Carlo e direi che avete avuto un bel seminario sulla superconduttività dove potrete sbizzarrirvi poi per i vostri progetti di arte e science io ringrazio tutti sono sicuro di essere stato io mi scuso con i professori se sono in materie scientifiche perché come avete visto ho dovuto fare delle approssimazioni molto brutali ma credo che le classi fossero di livello non molto vario dalla terza alla quinta e quindi questo è diciamo così mi scuso con tutti coloro i quali avranno trovato troppo banale la spiegazione e vi ringrazio per l'attenzione ancora per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione con i